Il bilancio di previsione del 2009 è l'ultimo bilancio dell'amministrazione saitta prima delle elezioni previste per la prossima primavera ma non parlerò di questo perché è ancora prematura una valutazione che stiamo facendo i gruppi di minoranza ma voglio invece dire chiaramente questo Consiglio in questi anni ha votato mozioni di indirizzo alla Giunta che sono rimaste lettera morta faccio due esempi clamorosi uno sui rifiuti secondo, nell'occasione del bilancio di previsione dell'anno scorso parlo del bilancio di previsione del 2008 l'intero Consiglio, sempre all'unanimità tengo a precisare, maggioranza e minoranza aveva votato alcune mozioni di indirizzo per la Giunta per venire incontro delle esigenze dei territori associazioni varie che aspettavano contributi per un minimo di vitalità sono ancora adesso in fase di discussione che stiamo arrivando al bilancio di previsione del 2009 sono ancora lì da discutere Volevo sottolineare due o tre aspetti che sono oggi nella relazione dell'assessore Chiama che parte dalla sessione del bilancio quest'anno ci presentiamo con un bilancio come provincia a differenza degli anni precedenti con un bilancio purtroppo io dico sobrio perché non poteva che non essere così visto la situazione della crisi finanziaria ma soprattutto del procinto di essere già approvata dal Parlamento alla finanziaria nazionale quindi della legge dello Stato i punti salienti possono essere chiusi in due o tre battute che sono circa 190 milioni di investimento da parte della provincia di Torino altro dato importante è che non ci sono aumenti dal punto di vista di quelle poche tariffe che riscuote la provincia sia nei confronti di soggetti terzi in questo caso possono essere aziende o cittadini e chiudiamo anche con una tenuta dal punto di vista delle spese corrente che sono la stragrande maggioranza la voce più pesante è quella del dipendente e quindi del personale con un bilanciamento che è attorno al 20% delle spese corrente in questo momento noi stiamo assistendo a questa crisi pesante sul nostro territorio assistiamo alla perdita di posti di lavoro la chiusura delle fabbriche gli ammortizzatori sociali i dati ci dicono che sono quadruplicati l'utilizzo per esempio della cassa integrazione la mobilità c'è il problema dei precari quindi siamo in una situazione occupazionale del nostro territorio che è pesante e quindi io penso che gli enti locali debbano adottare misure che vadano in contrasto a queste problematiche che ci sono sulle tematiche sociali quindi il lavoro la casa le politiche sociali in modo da fronteggiare la crisi pesante che si sta manifestando nel nostro territorio grazie a tutti grazie a tutti